Amici di Castellana Live e Web TV, buongiorno, siamo qui con il sindaco Franco Tricasi, Castellana Grotte è il presidente dell'associazione Proloco. Una domanda al nostro sindaco, cosa pensa di questa bella iniziativa a aperitivi culturali? Credo che sia un'iniziativa molto importante, è un risveglio, per me è un grande risveglio culturale qui a Castellana, far conoscere la propria storia, far conoscere le proprie bellezze è un investimento per il futuro, per cui sono molto contento di questa iniziativa, ringrazio il presidente dell'associazione Proloco Piero Longo per questo suo lavoro, i suoi collaboratori e credo che investendo sulla propria storia si può pensare al proprio futuro. Ecco, questa è la nostra idea e sono convinto che Castellana Grotte ha tanto da scoprire, tanto da far vedere, tanto da promulgare anche per gli altri. Sembra che questa iniziativa abbia risvegliato l'animo dei castellanisti, perché il numero dei presenti è andato aumentando giorno per giorno, il presidente Piero Longo lo confermerà e credo ci potrà dare anche l'appuntamento per il prossimo aperitivo? Sì, noi abbiamo una serie di appuntamenti, tra l'altro con il sindaco stiamo concordando che anche con il bel tempo cominceremo a spostarci, a valorizzare anche le risorse che sono limitrofe alla città e mi riferisco alle masserie, ai trulli, agli insegnamenti, ai vari opifici che ci sono, che sono molto molto belli. Per cui noi avremo modo di domenica di vederci nuovamente con un'altra visita guidata nel centro storico e poi basta seguirci anche attraverso la vostra emittente o anche attraverso i giornali locali o il nostro profilo Facebook per essere aggiornati. Ringraziamo ancora gli amici di Castellana Live Web TV e vi salutiamo al prossimo aperitivo.